Siamo presso la sede di USB Talsano Taranto con il coordinatore provinciale di Taranto di USB Francesco Rizzo. Un incontro in cui ci sono tante cose da dire, parleremo della situazione e dell'appalto dell'EC Silva, ma partiamo con una notizia che piazza in prima pagina il nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Taranto, come leggete, rame trafugato all'EC Silva, licenziamento bis. Rizzo, lei ha preso le distanze sul modo, su questo modo, di fare giornalismo. Per quale ragione? È un giornalismo completamente di parte, che fa una ricostruzione dei fatti non veritira, nel caso del primo licenziamento, che dedica uno spazio enorme ad un fatto singolo di un lavoratore che ha sbagliato, su questo non ci piove, quasi manco fosse, come dire, uno spazio del genere, io non l'ho visto manco dedicato quando hanno fatto i blitz facendo decine di arresti. Perché questa è la prima pagina, poi a pagina 9 c'è una pagina intera dedicata, con il rame nello zaino c'è il licenziamento bis, un'intera pagina. Sì, un'intera pagina, ma il paradosso è che alla fine tutto questo spazio è dedicato a un singolo fatto che è di interesse aziendale, e vi dico poi perché, e non una parola sui fatti reali, sulle cose vere, sulle centinaia di famiglie dell'appalto ILVA che stanno lì a scioperare da settimane e che non percepiscono lo stipendio a causa del fatto che Arsenal Mittal non paga le fatture delle aziende d'appalto. Su questo manca una parola, manca una parola sulle navi in rada, in cui paghiamo penali di centinaia di migliaia di euro al giorno con i soldi pubblici, quindi una descrizione dei fatti in cui sostanzialmente si tende a dire guarda che i dipendenti di quella fabbrica non sono santi, anzi sono un po' così, come questo qua. Allora, la rappresentazione che il giornale fa del primo episodio, perché parla di un lavoratore, licenziamento bis, parla di un lavoratore che era stato già licenziato a seguito di un'accusa mossa lì dalla fabbrica, dal management di Arsenal Mittal, di aver realizzato un video che poi io postai, credo più di un anno e mezzo fa, sui social. Vi è una rappresentazione falsa dei fatti. Si parla di licenziamento intimato da Mittal, dal lavoratore che aveva filmato l'operaio e lasciato sul tetto, tacendo sul fatto che il Tribunale ha escluso radicalmente tale circostanza, dichiarando la totale insussistenza del procedimento disciplinare. In parole povere, il giudice ha dichiarato che Mittal aveva licenziato il lavoratore senza averne la minima prova. Il giornalista, che fa l'articolo, in maniera un po' subito, solo alla fine dell'articolo dichiara che il Tribunale reintegrò il lavoratore perché non era stata raggiunta la prova certa. E invece, come detto in quel processo, è emerso che Mittal non aveva nessuna prova, altrimenti il Tribunale, per l'effetto della legge Fornero, non l'avrebbe mai reintegrato. Questo modo di riportare i fatti è anche poco rispettoso, lo dico in tutta onestà, del lavoro che fa la magistratura, perché fa sembrare che il Tribunale l'abbia reintegrato in maniera erronea, quasi facendolo in favore, e così non è. Diciamo che la parte brutta poi qual è? Che un giornalista che scrive, si dovrebbe documentare, dovrebbe scrivere la verità, invece qui c'è una verità zeppa di errori, che non è la verità reale. Sul fatto successivo, il porto, come dire, nulla da dire, il lavoratore ha fatto quello che ha fatto, si assume la responsabilità. Tra l'altro, la nostra organizzazione, sai come la pensa su queste cose, noi da sempre abbiamo detto chiaramente che non difendiamo i lavoratori che si macchiano di questi gravi rati. L'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo concesso a questo lavoratore, abbiamo detto che ti accompagniamo in direzione, se l'azienda vuole accettare le dimissioni, noi glielo chiediamo, altrimenti come ti assumi la responsabilità, perché hai fatto una cosa che non dovevi fare. Lo dico aggravato dal fatto che uno che ha bisogno di lavoro non si mette a fare certe cose, assumendosi la responsabilità, poi tra l'altro, anche di andare a rovinare una famiglia. Quindi lei vede in questa linea editoriale una linea filoaziendale? Assolutamente sì, l'articolo porta il nome, ma in realtà non poteva firmare a Cedì d'Italia, è una rappresentazione assurda della realtà. Io mi aspetto dai mezzi di informazione che incominciano a descrivere la realtà. La realtà è di un appalto che è sotto stress, di centinaia di famiglie che non prendono lo stipendio, che stavano lì davanti, questi non si sono degnati neanche di fare una fotografia. Anzi, quando li abbiamo contattati per dirgli, guardate che c'è un errore in quello che avete detto e fate sembrare quasi come se il giudice non avesse fatto il proprio lavoro, in realtà siete voi che avete completamente stravolto la verità. ma voi tra l'altro non dite manco una parola su quello che sta accadendo. La risposta è stata sui lavoratori della Semat che stanno scioperando nei prossimi giorni, se abbiamo spazio magari ne parliamo. Funziona così. Questa è, come si dice, un'informazione libera, un'informazione che tende a descrivere perché questo è un attacco ai lavoratori dell'ILVA, cioè il senso quale di quest'articolo? Il senso è che Mittal, che accedi d'Italia, dice vedete, ecco perché ne licenzio tanti, perché questi sono così i lavoratori. Ecco, se vuole fare un servizio pubblico reale, se vuole scrivere la verità, il quotidiano si assuma la responsabilità e incomincia a parlare delle centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici, di soldi dei contribuenti, di chi va a lavorare, non di chi scrive sciocchezze, che vengono buttati a mare ogni giorno per quelle navi che stanno lì, su cui paghiamo le controstallie. Stanno lì e non si sa perché non scaricano il minerale. O parli delle decine e decine, chiedo che abbiamo toccato quasi, abbiamo superato di parecchio quota 100, di licenziamenti assordi, di gente che purtroppo ne sta pagando le conseguenze, in alcuni casi reintegrati come Riccardo Cristello ed altri, che sono stati buttati fuori così, per motivi a noi sconosciuti. Parliamo delle centinaia di famiglie dell'appalto che vivono in questa condizione di anni. Non scrivete una riga su questo, però poi ti vedi l'articolone quasi a compiacere, come dire, la società. Per dire io sto dalla parte tua. Guarda, in tutta onestà, questo è un modello giornalistico bruttissimo, dal mio punto di vista vergognoso. Ecco Rizzo, abbiamo fatto riferimento all'appalto. C'è stato alle ditte dell'appalto, dell'Exilva. Sono tre giorni, scusa, sono tre giorni e poi tu mi trovi in tre giorni una riga su quello che sta accadendo a cento famiglie dell'azienda Semat che non vengono pagate. Sono tre giorni, ma lì l'articolo non lo possiamo fare perché poi, se dobbiamo dire la verità nell'articolo, dovremmo dire, guarda che ci sono decine di milioni di euro di arretrato di fatture che alzano l'obietta, la serie d'Italia, dovrebbe pagare e non l'ha pagato. Quindi non conviene dire che ci sono cento poveri cristi lì che non possono pagare gli affitti, pagare le bollette, dar mangiare ai figli, perché il quotidiano si occupa di... non lo so di che si occupa, non lo so. In questa edizione abbiamo visto la vicenda del lavoratore. Certo, sarebbe opportuno dare un'importanza e una luce ancora maggiore a un fatto più importante come la crisi di tanti operai dell'appalto. Non la si dà volutamente perché probabilmente bisogna raccontare al mondo una verità che non esiste. La verità reale è che quella fabbrica sta accadendo a pezzi, che ci sono migliaia di lavoratori in cassa integrazione, che ci sono migliaia di lavoratori dell'appalto che ogni giorno combattono per prendere stipendi da fame, che c'è un'azienda che ha fatto debiti e ha scaduti importanti non onorati con altre aziende d'appalto, che è la verità che ci sono le navi irrade, la verità che abbiamo bruciato decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro di soldi pubblici, la verità, e lo dico, che la politica è completamente assente su Stagos. La verità che Taranto, a Brivensi, si continua così, rischia di diventare una bomba sociale. E il quotidiano fa l'articolo in prima pagina, ci mancava solo che lo mettessero a posto il titolone su Draghi, quello sarebbe stato la cicheggina sulla torta, fa l'articolo con il titolo, con il rame nello zaino. Parlate di cose serie. Ecco, Rizzo... E questa non è una giustificazione, non è che precisare, è quella che ha fatto il lavoratore, perché come tu sai, noi da questo punto di vista... Si ha sbagliato, deve pagare. Si aveva il rame, però... È un attacco, una descrizione completamente fasulla, delle centinaia e centinaia di persone che buttano il sangue in quella fabbrica, che si ammalano a causa di quella fabbrica e che vivono questa condizione, magari devono lavorare nell'interno di quella fabbrica e devono combattere per percepire lo stipendio. È uno schiaffo a tutti i lavoratori di questo articolo e io mi vergogneria a posto sia dell'editore e di chi si è fermato, che l'articolo non l'ha manco scritto. Rizzo, abbiamo fatto menzione della crisi dell'appalto, dei lavoratori delle ditte dell'appalto Exilva, la vicenda Semat. Nei giorni scorsi avete avuto un incontro con Inconfindustria Taranto, c'è stato un incontro con il Cavaliere Sportelli, cosa è emerso da questo incontro? Ieri c'è stato un incontro a seguito, tra l'altro, di uno sciopero che noi stiamo facendo insieme ai dipendenti della Semat Services, e sono un centinaio di famiglie che non prendono lo stipendio da un mese. Niente, ieri ci siamo incontrati, fatto positivo che siamo riusciti ad avere un'interlocuzione con chi rappresenta oggi Inconfindustria, a Cerie d'Italia. La dico sta cosa perché noi siamo stati i primi a lamentarci, noi come OSB ci lamentiamo da anni, che non riusciamo ad avere i riferimenti che riescono a darci informazioni certe e sicure sullo stato di salute dell'appalto. E quindi, come dire, il fatto positivo che il dottor Sportelli ci ha incontrato ha messo sul tavolo la reale situazione dell'appalto che non è una situazione positiva, ci ha detto chiaramente che questa situazione rischia di durare fino a fine anno, con la speranza poi che ci sia un cambio di passo all'anno nuovo. Ci ha spiegato i motivi che hanno prodotto questa situazione. Tra l'altro ci ha anche detto guardate come ho saputo che eravate in sciopero e chiaramente ho insistito per predisporre immediatamente un bonifico per il gruppo Semat per mettere le condizioni nella Semat poi di pagare i lavoratori. Semat che in mattinata aveva già provveduto a pagare il 50% degli monumenti ai lavoratori. Quindi siamo in attesa che arrivi il bonifico del Cerie d'Italia a Semat per andare a chiudere come dire la parte di stipendio. Lo premetto, questi sono i lavoratori che hanno uno stipendio medio-basso, parliamo di 1.000-1.100 euro al mese, scarso. È chiaro che se un lavoratore che vive con 1.100 euro gli togli lo stipendio, comunque ha si integrato, il lavoratore ha finito di vivere con tutti gli impegni che ci stanno. Quindi, il lato positivo che c'è stato, c'è finalmente un interlocutore. Tra l'altro è la prima cosa che abbiamo chiesto alla Morselli quando ci siamo incontrati per la prima volta al Ministero, con l'allora Ministro Badoanelli, con la Morselli. La prima cosa che io chiesi proprio è metteteci un referente, così usciamo da questa ambiguità che si crea con le aziende che ci devono un'accusa e poi ci dite un'altra. È chiaro che il ruolo di Sportelli è quello, conoscendolo tra l'altro, credo che abbia accettato l'incarico anche per questo, è quello di tentare di normalizzare la questione dell'appalto. La vedo complicata perché parliamo di decine e decine di milioni di euro di scaduto. Diciamo, su tutto questo pesa tra l'altro l'assenza della parte pubblica, della politica. fatta l'operazione, immessi 400 milioni, nominato Bernabè presidente e due membri del CdA completamente spariti. Non li abbiamo mai incontrati, non sappiamo nulla di nulla. Il rischio è che ad attendere la parte più debole della fabbrica in questo momento rappresentata dagli appalti possa esplodere. Noi abbiamo 5 mila lavoratori che stanno all'interno dell'appalto, la paura è esattamente quella. Non si può pensare di continuare ad andare avanti avendo ogni mese 150, 200, 300, 400 lavoratori di volta in volta prima dell'azienda X poi dell'azienda Y che debbano reclamare o fare sciopero per avere lo stipendio inerente giorni che hanno lavorato buttano il sangue all'interno di quella fabbrica. E' una cosa assurda, drammatica questa. Poi perché sono lavoratori che tra l'altro non prendono stipendi faraonici, non sono dirigenti che prendono 5 mila euro al mese quindi se li paghi con un mese di ritardo ce la fanno a sopravvivere. Sono lavoratori che comprendono lo stipendio e hanno già gli impegni. Quindi su questo io spero veramente che il governo ci metta immediatamente le mani anche perché il tempo sta scadendo. Prima o poi purtroppo anche alla luce delle note vicende dell'AFO 4 un rischio concreto che da qui a breve tempo come dire la situazione possa peggiorare. noi rischiamo di trovarci veramente in una condizione che è difficile gestione quindi il governo ci deve mettere le mani e bisogna normalizzare le situazioni e soprattutto bisogna ragionare delle cose vere che è la cosa che purtroppo non si fa né più a livello politico ma neanche ultimamente sui giornali. Ecco termina qui il nostro incontro con Rizzo questo è uno spazio aperto ognuno può dire la sua liberamente e sarebbe bello Rizzo e noi aspettiamo una replica del quotidiano lei ha fatto delle affermazioni e ci aspettiamo una replica proprio perché chi è sicuro del fatto suo giustamente non ha nulla da temere e si può confrontare. Mi sento offeso da questo articolo come lavoratore io sono lavoratore perché l'unico giornale che attacce di Taranto non può fare una descrizione perché è quello il tentativo di fare una descrizione negativa di gente che lo ribadisco l'ho già detto prima che sta in quella fabbrica a buttare il sangue rischiando di ammalarsi tutti i giorni e tentando di guadagnare un mese lo stipendio per campare la famiglia guardate è bruttissima sta cosa e se la potevano tranquillamente risparmiare se il quotidiano vorrà perché siamo in democrazia può replicare o meglio ancora un bel confronto eh magari grazie grazie grazie